Primo consiglio comunale del 2022 online per il comune di Biella. Ma per cosa potremmo ricordare questa data? Per una pioggia di fondi a cascata su sindaco e assessori? No, non proprio, anche se alcuni bandi tra rigenerazione urbana e scuole sono stati portati a casa. Allora, per la soluzione della crisi infinita di giunta che attende l'ispirazione per porre fine alle fratture nette tra forze di maggioranza? No, nemmeno. La frase che continuano a ripetere dal mese di luglio come un mantra è ci stiamo lavorando. La pioggia è arrivata e non stiamo parlando delle condizioni meteo. A cadere come un fiume in piena sull'amministrazione dopo diverse gaffe in diretta sono stati gli insulti dei telespettatori. Ma mettere in difficoltà la trasmissione da remoto di giunta ai consiglieri forse l'inesperienza su questo fronte. Sì, perché dopo aver preso la parola durante una call è sempre opportuno spegnere il microfono, proprio per evitare gaffe tanto spiacevoli quanto involontarie. Invece ricordo di Nino Cernuti e l'assessore Barbara Greggio che ha avuto la fortuna di collaborare a lungo con questa straordinaria figura che, colgando la sua creatività e le sue capacità imprenditoriali, ha dato nel mondo lustro a Biella e di attitudini alle tre. Prego a sessore. Grazie Presidente. Colgo proprio questo spunto che ha citato sulla creatività per condividere con voi quello che noi abbiamo portato nel mondo. Proprio come testimonianza... E' arrivata al stampato. Cioè, va a fanculo, cioè, allora ci troviamo tutti in sala conferenza con la video sala air. Per cortesia. Per cortesia. Per cortesia. Va bene, va bene, siamo arrivati. Per cortesia. Per cortesia. Per cortesia. Mamma mia, disperazione. Ah, fanculo. E dopo l'uscita poco felice dell'assessore ad innovazione tecnologica Massimiliano Gaggino, a fine seduta, si è tentato di rimediare all'errore riproponendo il video. Peccato che il contributo a Nino Cerruti era sparito. Ma un'altra immagine ha colpito l'immaginario collettivo ed ha suscitato non poca ilarità. Il sindaco Claudio Corradino che appariva e scompariva. Su uno sfondo del Battistero con luci colorate ed effetti speciali degni di un film di fantascienza. E che ogni anno magari cambia una piccola norma, eccetera, e insieme al codice agli appalti crea, secondo me, più problemi di quelli che ne risolve. Però questa è un'opinione personale. In ogni caso, la situazione in Italia era talmente pesante che probabilmente ha reso necessaria una legge del genere. In altri paesi non ce l'hanno perché non è necessaria. Noi abbiamo esagerato, in generale, negli anni. Anzi, molti l'hanno definito più vicino a una commedia. Peccato che di motivi per ridere sul fronte sanitario, economico e sociale, anche nel biellese non ne abbiamo molti.